Stiamo lavorando con tutti che potiamo, ma sappi che ci sono gente dentro la Chiesa che ancora non la vedono chiara, non condividono così, ma speriamo un po', vediamo. È un processo che lo stiamo facendo con coraggio e non tutti abbiamo coraggio, sai. Dalle volte la tentazione dei compromessi ti vengono e siamo tutti schiavi dei nostri peccati pure, no? Ma la volontà della Chiesa è chiarire tutto. Per esempio, ho ricevuto negli ultimi mesi due richieste, due lamentelle di abuso che erano state coperte, non giudicate bene dalla Chiesa. Subito ho detto si studia di nuovo e si sta facendo un nuovo giudizio. Anche questo, revisione dei giudizi vecchi non ben fatto. Facciamo quello che potiamo, siamo peccatori, sai. E la prima cosa che dobbiamo sentire è la vergogna, la profonda vergogna di questo.